Formalmente chiuso il centro di coordinamento dei soccorsi dopo la riunione in prefettura di questa mattina, ora si procede con le operazioni di bonifica per spegnere gli ultimi focolai all'interno della pineta d'Annunziana. Delle alte fiamme da scenario apocalittico in cui si era trasformata la città domenica scorsa, resta qualche piccolo fuoco fatuo tra i tronchi dei pini, quasi a ricordare quel che soltanto due giorni fa era un luogo identitario di Pescara. Difficile immaginare che l'incendio sia stato originato da un innesco spontaneo, considerata la simultaneità delle fiamme che hanno divorato la vegetazione in più punti della riserva, complici la siccità e il vento che, trasportando scintille, potrebbe aver provocato dei cosiddetti salti d'incendio, ma per poter parlare di inneschi veri e propri occorrerà che a pronunciarsi siano le indagini. Perché se la situazione legata all'emergenza può dirsi sotto controllo, ora il fronte caldo si sposta sul lato investigativo, con le indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Pescara e dai carabinieri forestali e coordinate dal sostituto procuratore Anna Benigni. Il fascicolo d'inchiesta è stato aperto a carico di ignoti per incendio e incendio boschivo doloso, con la speranza che si arrivi a individuare i responsabili del disastro. Rinforzi investigativi arriveranno anche da Roma, con il nucleo dei carabinieri forestali specializzato in incendi boschivi, che attraverso l'applicazione del metodo dell'evidenza scientifica dovrà risalire a eventuali inneschi che confermino il dolo. L'attività dei droni servirà invece a mappare l'incendio dall'alto, mentre perimetrazione e bonifica dovranno essere effettuate via terra con uomini direttamente impiegati sul posto. Intanto già si pensa al post bonifica e a come e quando la pineta tornerà ai fasti di prima. Fonti vicine e forestali fanno sapere che le strade possibili sarebbero due, ripiantumare gli alberi già grandi, che però essendo già adulti potrebbero avere una maggiore difficoltà di attecchimento, oppure lasciare che la pineta si rigeneri da sola, facendo rinascere spontaneamente ciò che è stato disseminato con il calore dell'incendio, magari con interdizioni dell'aria al pubblico per non disturbare il processo di rigenerazione della riserva. Ci vorranno comunque decenni per tornare allo status della pineta antecedente alla devastazione di fuoco avvenuta soltanto due giorni fa, che ha riempito l'aria di fumo e benzene rilevato dalle centraline dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale, come spiega il direttore regionale Maurizio Dionisio al nostro microfono. Le nostre centraline fisse di monitoraggio hanno rilevato dei picchi di benzene e dagli uffici dei nostri chimici la rispondenza è il prodotto della combustione della cellulosa e degli arbusti delle numerose piante che sono state divorate dall'incendio. È un dato non allarmante per la salute umana perché è un fenomeno del tutto naturale, pur tuttavia stiamo continuando a fare dei prelievi di aria per poter ugualmente, nuovamente verificare presenza di agenti inquinanti perniciosi per la natura e per l'uomo. Siamo stati fortunati per il vento perché il vento è riuscito a disperdere gran parte degli inquinanti, se ci fosse stata una condizione meteorologica diversa forse avremmo avuto un motivo in più per preoccuparci.